Amici di Tutto Venezia Sport, dei fuoricampo, pure semplici simpatizzanti del mondo arancio-nero-verde, buonasera e ben ritrovati qui con voi Davide Marchiol per fare il punto di situazione in casa lagunare alla luce del pareggio per 1-1 tra compagine di Vanoli e il Cosenza al Marulla. Ovviamente prima di cominciare ad analizzare un risultato che ha tantissime sfaccettature a partire dal fatto che comunque per quanto non sia una vittoria ti permette di agganciare Ascoli e Pisa all'ottavo posto, ovvero l'ultima piazza valida per i playoff, il mio invito come sempre è quello di iscrivervi al canale, come community puntiamo a portarvi un'informazione accurata e approfondita su realtà di classe medio o piccola pur trattando anche le grandi nelle live, quindi per far sì che il nostro sforzo abbia un senso per andare a colmare un po' questa lacuna lasciata dai mass media nazionali, il nostro invito è quello di iscrivervi perché è il modo più facile che avete per sostenerci, anche perché è gratis, potete ripensarci, vi basta mettere un like anche se siete iscritti, ricordatevi le fondamentali per far girare il video, tutte interazioni che ci possono aiutare oltre a quanto ovviamente vedete i nostri video e che potete fare gratuitamente se sono i commenti aperti per chiunque voglia dirci la sua o per chi voglia confrontarsi con gli altri tifosi. Detto questo, ragazzi, io lo so che guardando la classifica e guardando un po' dove è imparagato il Cosenza e che Rosa ha il Cosenza potesse sembrare una gara facile, ma come vi ho già detto anche in live era un falso amico, tra virgolette, perché il Cosenza nelle proprie mura ha un rendimento veramente invidiabile tant'è che sono cadute al Marù, la squadra attualmente in lotta insieme alla Venezia per il playoff come il Palermo, il Parma, il Pisa, tante squadre attrezzate comunque per una lotta ai primi otto posti dove è difficile il Cosenza, è in trasferta decisamente, dove però comunque con un voglia e grinta è andata per esempio a prendersi tre punti in casa del Frusinone. quindi sicuramente una squadra, probabilmente per spessore puramente tecnico non a livello di certe compagni della caratteria che però sopperisce con voglia, grinta, possiamo definirle così una voglia e una grinta che sono veramente invidiabili anche oggi per tutti i 90 minuti sono usciti a tenere dei ritmi che hanno fatto sì che il Venezia stavolta veramente soffrisse molto per riuscire a fare il suo gioco che abbiamo visto infatti per pochissimi tratti durante il corso di 90 minuti scelte iniziale di Evanoli che sono le solite se ci stiamo fatta per Cepitelli in luogo dell'infortuna dello squalificato scusatemi svoboda ormai abbiamo capito più o meno le gerarchie che si sono andate a creare e anche forse il perché alla luce del rendimento di alcuni cambi ma ci arriviamo ora devo dire che ripeto questa partita la temevo perché ripeto basta fare un'analisi del rendimento interno del Cosenza e fin da subito il Cosenza ha fatto capire le sue intenzioni ripeto non c'era una tecnica sopraffina spesso ha fatto degli errori molto banali anche il Cosenza però fin da subito ti ha tenuto in sotto pressione ti ha aggredito non ti ha permesso di ragionare col pallone e hai dovuto faticare per riuscire a uscire dalla loro pressione in modo pulito per poter ragionare sul poi costruire un'attuazione manovrata tant'è che anche nel primo tempo sono forse più le azioni del Cosenza pericolose rispetto a quelle del Venezia per quanto arrivi un altro super goal di Poglian Palo che è chiaramente uno degli elementi in più che ha la squadra di Evanoli rispetto al Cosenza bella palla di Kofod non spettacolare ma comunque buona Poglian con quella frustata ti regala un gol che ti permette di uscire comunque indenne da un campo ripeto complicatissimo complicatissimo perché poi nella ripresa sei riuscito solo per una decina di minuti a interrompere le loro folate e alla lunga così diventa complicato ovviamente è da matita rossa l'errore di Hirstow sull'incornata di Durso quello è ovvio perché un difensore lì deve andare di testa però ricordiamoci che comunque Hirstow è un giocatore che alla fine ha pochissime esperienze tra A e B e A più che altro C cioè comunque non è un giocatore già affermato un fuoriclasse della difesa quindi io posso comprendere un errore lo comprendevo magari meno in passato da Cepitelli che oggi invece per esempio fa una grandissima prestazione regala anche una chiusura stratosferica all'ultimo minuto che ti dà comunque un punto utile alla tua rincorsa potevano essere tre? sì sarebbero state bellissime averne tre calcolando che sia andata in vantaggio? sì ci ho sperato di vincerla? sì può capitare l'episodio soprattutto quando Al Cosenza ne regali così tanti ed è capitato quello che per una squadra che lotta per i primi otto posti è un pochettino meno accettabile è che non si riesca mai a interrompere questa continua ondata di attacchi degli avversari perché a un certo punto Vanoli decide di togliere Johnson che oggi era un po' meno brillante del solito ha fatto tanti errori tante giocate in cui era indeciso Pierini entra Pierini perde troppi palloni cioè non ti ha mai fatto una ripartenza buona tant'è che poi dopo pochi minuti Vanoli deve correre subito ai ripari inserendo Sherice per ridare un po' di qualità e riuscire quantomeno a rivedere la metà campo avversaria perché ripeto purtroppo il cambio Johnson-Pierini Pierini per Johnson non ha portato assolutamente neanche lontanamente gli effetti sperati è un peccato però capisco anche perché Johnson ha preso così tanto così tante tacche sopra l'ex Cesena purtroppo Pierini probabilmente non è riuscito a fare quello step che hanno fatto tra gli altri compagni perché i mezzi per una gara di contropiede li ha tutti però purtroppo oggi non li ha fatti vedere non li ha fatti vedere mentre Shericev magari ha giocato una gara molto meno propensa molto meno assimilabile a quelle che sono le sue caratteristiche ma quantomeno ti ha dato la qualità per riuscire a spezzare un pochettino le loro le loro trame per le loro folate le loro continui attacchi anche disordinati anche con tanti errori perché il Cosinza ha fatto una quantità di errori tecnici clamorosa però ci metteva una voglia una grinta che gli ha permesso di tenere questi ritmi per praticamente 90 minuti tralasciando una decina di minuti tra prima e secondo tempo fine, basta e ripeto così se il tuo piano tattico trova delle individualità che faticano a farlo ad applicarlo diventa più complesso tenendo conto che comunque Christoph quell'errore può anche può evitare di farlo e se lo fa parliamo di una grandissima vittoria però purtroppo ci può stare che i tuoi difensori soprattutto ripeto un giocatore che ha pochissime esperienze tra le prime due categorie possa farlo quindi non getto la croce addosso a nessuno oggi sinceramente sicuramente però ci sono dei punti in cui si può migliorare per pensare una lotta playoff chiaro ma restano due partite però anche in ottica anno prossimo forse anche già incominciando un po' a capire una rosa così dove andrà un pochettino rinforzata quindi forse oltre a un centrale se Perini non dovesse fare questo step magari anche un altro giocatore con le caratteristiche o la Johnson o comunque alla Aramu che ti permetta un po' di spezzare di fare qualche sortita quando sei sotto assedio perché se no ripeto diventa anche diventa molto dura diventa molto complicata e poi su altre individualità grandissima partita di Cepita l'ho visto Candela un po' più appannato oggi rispetto alle altre partite anche lui qualche errore di troppo oggi qualcuno probabilmente ha risentito ha iniziato a risentire di qualche fatica tant'è che mi aspettavo fuori Candela per Cervo e non Zampano un Zampano che comunque ha rifiutato in qualche frangente ma ha dato forse un po' più di di vivacità su quella corsia rispetto al dirimpettaio e per il resto ormai è la gara solita che ci aspettiamo un po' da parte di tutti Tesman sappiamo che non ha le qualità del play ma che si arrabatta comunque in quel ruolo e anche oggi lo ha fatto discretamente ha fatto valere tantissimo il suo fisico per cercare anche di interrompere le azioni avversarie per guadagnare i minuti con dei falli Busio entra non fa nulla di clamoroso ma cerca di essere ordinato è una gara che ha credo confermi la difficoltà di andare a vincere su un campo come quello del Cosenza come il Morura di Cosenza dove Cosenza sta oggettivamente costruendo le sue possibilità salvezza perché se guardiamo invece il rendimento esterno sì ripeto c'è una bellissima vittoria a Frosinone contro una squadra che è andata in Serie A però ci sono anche delle goleade che si distinguono abbastanza sul resto delle partite ma come per esempio un Venezia disastrato ha battuto il Cosenza facilmente 2-0 in casa sono un'altra squadra e oggi l'abbiamo credo visto ma anche Vanoli aveva avvertito non sarebbe stata una gara assolutamente assimilabile a quelle viste contro Nene Modena quindi salvezza sostanzialmente acquisita manca solo l'aritmetica vediamo che potrebbe già arrivare in base al risultato di Parma Brescia lotta playoff ancora apertissima perché settimana prossima affrontiamo la bestia nera Castori che però ha una squadra oggettivamente inferiore alle altre dunque devi ecco lì contro il Perugia alpenzo devi cercare di invece costruirti come sta facendo un po' il Cosenza per la sua lotta salvezza devi cercare un po' di costruirti le tue ambizioni playoff che ripeto a questo punto sei lì sei ottavo insieme ad altre tre insieme ad altre due scusatemi ci si può provare tenendo conto che l'ultima giornata ce l'ho scontro diretto con un Parma che paradossalmente potrebbe anche non avere una da chiedere se non magari un piazzamento migliore quindi non è impossibile neanche l'ottica l'ottica più ambiziosa e ripeto è un punto che comunque ti permette di fare bottino e di agganciare Ascoli e Pisa oggi sconfitte detto questo io vi ringrazio per l'attenzione se vi va lasciate un like e iscrivetevi un saluto e ci vediamo con i prossimi contenuti taggati fuori campo alla prossima ciao